Eccoci qua a voi tutti ben ritrovati da Giuseppe De Vittis e cari amici andiamo subito a vedere cosa accadrà nella giornata di mercoledì. Beh, la giornata inizierà in maniera tranquilla ma le nuvole aumenteranno, aumenteranno soprattutto su zone attorno ai rilievi, su zone montuose come al solito ci sarà la possibilità di instabilità di qualche rovescio di pioggia o isolato temporale. Poi la situazione tornerà di nuovo abbastanza tranquilla verso la serata, quindi questo è lo scenario previsto per la giornata di mercoledì con temperature che stanno tornando ad aumentare. Avremo valori anche attorno ai 30 gradi centigradi, in alcune zone anche oltre i 30 gradi minime che non faranno registrare grandi cambiamenti. Quindi tutto sommato al risveglio si starà piuttosto bene, addirittura quasi fresco, però poi col passare delle ore le temperature aumenteranno in maniera decisa. E tutto, buon proseguimento, arrivederci.